Milano incontra appuntamento a cura del direttore Dario Bordè con la regia di Alessandro Trani montaggio audio Mauro Magni. Qui a Milano all'hotel Palazzo Parigi per una serata rotariana incontriamo il presidente del Rotary Milano Monforte il dottor Mario Caretta il suo ruolo e i compiti nel Rotary. Ho appena iniziato a fare il presidente da circa dieci giorni mi auguro di svolgere al meglio questo compito i miei soci mi hanno premiato mi auguro di passare un'ottima annata e di organizzare al meglio tutti i service e tutti i progetti che noi rotariani cerchiamo sempre di perseguire. Com'è arrivata questa sua carica il suo percorso? Io sono rotariano da circa 13 anni ho iniziato e ho partecipato al club di Melfi inizialmente e poi dal 2012 sono entrato a far parte della famiglia rotariana qui a Milano in questo club splendido sono stato presentato da un carissimo amico ho seguito un po' tutti i percorsi ho iniziato come tesoriere per circa tre anni dopodiché sono diventato l'incoming l'anno scorso come vicepresidente e quest'anno sono stato nominato presidente di questo club. Per i nostri ascoltatori cosa vuol dire essere rotariano? Vuol dire mettere la nostra professione al servizio degli altri di tutti coloro che hanno bisogno ma non solo la nostra professione in senso lato io faccio il commercialista, il revisore contabile posso servire in alcuni casi alcune associazioni bensì mettere a disposizione proprio la nostra vita nel senso che noi possiamo partecipare e partecipiamo attivamente a tutti i progetti a service che comunque possono avere contatto con le persone molto più deboli di noi. Lei è un giovane presidente a livello manageriale si direbbe in carriera. I suoi progetti? Noi da quest'anno porteremo avanti un progetto molto importante per la rieducazione degli ex detenuti del carcere di Bollate. Abbiamo già iniziato abbiamo sottoscritto una convenzione col carcere stesso e cercheremo di reinserire questi detenuti nelle ambiti delle attività più svariate che possono andare dall'attività commerciale dedicata alla ristorazione, all'artigianato, tutto quanto. Questo è un progetto molto importante. Non sono presidente giovanissimo, ho già la mia piccola esperienza e per cui cerco di dedicarmi molto agli altri. Un messaggio che vuole lasciare ai nostri radioascoltatori? Cari ascoltatori, partecipare a Rotary è molto importante, non è più un Rotary, un'associazione di nicchia dove o elitaria o tutto quanto. Bensì partecipare a Rotary vuol dire servire gli altri, vuol dire fare la differenza, vuol dire guardare i più deboli. E' venuto a partecipare. Ringraziamo il presidente del Rotary Milano Monfort, il dottor Mario Caretta e buon lavoro. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Da Palazzo Parigi con Mario Caretta, un saluto e a voi la linea.